Ho scoppiato la guerra e inizia via il fronte e resta avendo anche senza un bambino. E ora inizia, dopo noi ho cominciato a volare i campi, a volare, a tirare avanti i campani. Scriveva anche, era mia sorella quella che scriveva, che aveva corrispondenza, ma così non so. Ma che ti scriveva, non ti sapeva se arrivava. Un momento gira qua, un momento gira qua. Che brutto che sia guerra. Perché se sei un tempo orai e ti dici, non posso fare niente, mi sembra che, ma è guerra. E' sempre un po' e anche che ne rimetti qui che non ha nessuna volta. Qu'è la sua vita? Qu'è la sua vita? Qu'è la sua vita? Qu'è la sua vita? Grazie.